Gli ingranaggi della macchina da guerra diplomatica indiana sono partiti e sembrano destinati a non fermarsi facilmente. Il caso di Due Marò, accusati dell'uccisione di due pescatori, si sta intrecciando in maniera pericolosa. La Corte Suprema indiana ha chiesto all'ambasciatore italiano Daniele Mancini di non lasciare il paese fino a successiva comunicazione. Secondo alcuni si tratta di uno stagio politico al posto di Due Marò, che non rientreranno mai più in India. La Farnesina però è in silenzio stampa e avrebbe imposto a Mancini di non parlare più con i media. Ma secondo quanto trappelato dai giornali indiani, il diplomatico non accetterà di rispettare la disposizione di Delhi. Il motivo? La richiesta di non lasciare il paese è in violazione della Convenzione di Vienna del 1961, che garantisce ai diplomatici non solo la libertà di movimento, ma anche immunità da qualsiasi procedimento giudiziario. Per il momento non resta che attendere gli sviluppi di un braccio di ferro tra i più tesi della diplomazia internazionale di sempre. I giudici indiani ora vogliono sentire Mancini prima del 22 marzo per capire cosa sarà di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. Un destino che certamente terrà due paesi col fiato sospeso fino all'ultimo momento.